Siamo necessari come il pane, come gli infermieri, come gli ospedali, siamo qui per farci sentire e chiedere di essere ricevuti dalle istituzioni. Siamo i laboratori dello spettacolo pugliesi a rivendicare due cose fondamentali, il riconoscimento della nostra categoria attraverso una convocazione delle istituzioni della base perché la messa al sistema del nostro comparto, del nostro settore, dimentica assolutamente la nostra categoria come lavoratori di base e un reddito di continuità. Noi siamo la cura Italia e siamo necessari quanto il pane, come diceva qualcuno di molto più importante di noi perché una nazione, uno Stato senza cultura è una civiltà che non va da nessuna parte.